Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video che vi farò vedere la mia collezione di Glimmies ed è la serie 1 perchè la 2 e la 3 non l'ho arrivata vi leggo un attimo la storiella che ho scritto animali che vengono da... che me la sono inventata io animali che vengono da Glimmandia qui per proteggere la natura e scappano da Baba e la strega e il suo corvo che le vogliono accatturare perchè lei vuole la Glimm-tilla che sarebbe la polverina magica che dà il potere alle Glimmies le mie Glimmies per adesso sono soltanto 4 e io qua ho scritto la serie è la mia cartina d'identità per giocare alle Glimmies perchè sapete io ci gioco sempre con le Glimmies ho 8 anni ecco perchè incominciamo dalla prima che sono set da due cioè già aperti io linko qui sotto il video dello scartaggio che era a casa di mia nonna praticamente cominciamo con il primo pack da due e sono queste qui sono la serie normale guardate lei che non so i nomi perchè la checklist non la trovo più guardate che è carina tutta gialla ed è una falina e il simboletto che c'è sopra è una specie di foglia di fiore strano lei guardate a fuoco si vede ha la ghianda guardate è un scorpione no non è che è scorpione è un non mi ricordo che animale è proprio perchè con gli animali sto messa male secondo pack sempre da due guardate che carina lei è celestia celeste ah è vero vi devo fare anche vedere le luci facendo le luci senza farvela vedere sono delle bacche tipo sono tipo delle bacche e lei è una specie di non non le riesco a vedere di lei scrivetelo nel commento nei commenti di loro e questa è viola ok è ora di farvele vedere tutte con la luce prendo un po' la telecamera più giù aiuto telecamera ok ecco una questa qua ha bisogno di un sostegno perchè ha perso la coda non so come mai è stata una mia amica più piccola era venuta con la coda così 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 dovevo mettere la colla perchè si era già staccata un pochino così così l'ha staccata e poi l'ho persa non si vede molto bene ecco guardate che carine sembra tipo una copertina ve la metto qui ecco si vede guardate come sono belle cioè li adoro vi elinco qui sotto cioè non ve le elinco anzi no perchè è un video sorpresa con le mie climmis e la calza della befana e poi farò anche un altro video con la mia amica che uniremo tutte le climmis che ho cioè e che ho e che a lei perchè ne ha tantissime di quelle arcobaleno e vediamo se anche quelle acquaria non lo so è stata la bambina che ha sempre un anno in meno di me quindi una sette e mi ha rotto la coda quindi lei non sarà molto felice di vederla però non si vede molto bene la mia faccia perchè io sto usando il tablet è un po' difficile allora praticamente mi metto qui così si vede scrivete qui sotto nei commenti qual è la vostra climmis preferita tra queste e se ne avete altre un bacione ciao a tutti i dolci unicorni e mettete un like a questo video ciao 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 ciao